amici di music fan che bello ritrovare romina falconi ciao ciao zani sono così felice di vederti anche solo virtualmente però insomma dai ci siamo incontrati e spero di incontrarti pur dal vivo adesso lo spero anch'io lo spero anch'io però so che è un periodo anche da te veramente intenso tra l'altro sei il reduce dal lucca comics dove hai portato per la prima volta anche il centro d'ascolto rotto in cuore andando a ripercorrere anche un format che hai dovuto sperimentare più e più volte sì è stato un esperimento pazzesco perché poi non con in un contesto fieristico come può essere quello della fiera di fumetti di giochi più importante d'italia dove arrivano veramente migliaia di persone io un po avevo paura all'inizio ma io ho sempre paura zani cioè la mia costante è che io ho la tremarella tutte le volte che ci tengo a qualcosa eccetera è stato molto bello però riscontrare che il centro era sempre pieno e le confessioni sono state dalle rinascite hai problemi tipo peperonata che ti si ripropongono nella vita è presente quelle cose che dici ma perché ogni due tre anni mi risuccede che incappo in questo tipo di personaggio oppure vengo attratto da questo tipo di persona che si comporta così e quindi poi in blocco parliamo tutti insieme quest'anno è stato bellissimo perché con me mi sono portata la la mia amica che è una psicologa mogna da dio perché è vero che nasce come un confessionale dove può parlare chiunque è però è bello che ad ascoltare certe ombre diciamo ci fosse una persona esperta soprattutto in materiale umano emotivo così decisamente anche perché comunque poi per la prima volta hai venduto il volume 3 di rotto calco meno chiacchiere più attimo parisi in questo caso esatto allora sì questa è stata una pazzia zani c'è il mio socio che mi dice romina tu ti sei buttata dalla musica che comunque è un mercato in crisi all'editoria che è un mercato ancora più in crisi ma perché noi le cose facili non ci avranno mai e la cosa bella è stata che in sostanza io ho voluto fare questa galleria di peccatori che si chiama rotto in cuore che sarà un disco che uscirà a breve poi a breve avremo anche una benedetta data e sono così contenta ogni canzone è un peccatore che ha un'ombra psicologica bene in vista però faccio parlare il peccatore o la peccatore nel senso agli occhi di se stesso degli altri e mi ero chiesta se tre minuti di canzone mi bastassero e poi ho detto ma facciamo un esperimento visto che a me non piacciono le cose regolari e mi piace reinventare le regole nel senso che io credo nelle regole e credo che siano fondamentali però nel momento che una persona vive nella creatività è bello riscriverle un po' e buttarla in caciara come direbbe tanto mia sorella e quindi a un certo punto ho creato questo libro che in realtà appare da fuori come un magazine però dentro ha un lavoro corale bellissimo perché ci sono scritti di scrittori giornalisti c'è il manga di Marco Albiero che è il disegnatore del merchandising ufficiale di Sailor Moon europeo cioè insomma anche dei nomi dei buoni partiti come si dice poi c'ho fumettisti scritti miei che rispetto a i professionisti sono il paziente tipo ma va bene così poi ci sono invece l'antropologa Elena Nesti la psicologa Monia da Dio che è la mia amica che mi accompagna anche nei centri d'ascolto insomma io volevo fare il sacro e il profano le risate e gli studi nerd i grandi classici nominati insomma nella letteratura che trattano di questi argomenti siamo al terzo libro io credevo di non arrivare manca al secondo Zani invece sta andando via come il pane e di questo veramente metto un cero alla Madonna perché nel senso non è mai scontato soprattutto quando hai un progetto indipendente adesso c'ho paura di aver te rincoglionito con tutte ste parole Zani scusa se parlo tanto è bello sentirti parlare anche le varie domande poi in qualche modo arrivano proprio anche da queste idee di sacro e profano perché mi viene in mente appunto dalla suora Luco Mannaro Maria Gasolina c'è una trilogia che anticipa anche quello che sarà il tuo nuovo lavoro sacro e profano e tanta tanta ironia sì l'ironia non deve mancare mai o perlomeno a me personalmente non posso parlare per gli altri ha salvato la vita se noi riusciamo a ridere anche di cose su cui non c'è niente da ridere abbiamo vinto tutto lo diceva Nice cioè chi è capace di ridere anche delle tragedie della propria vita è sul tetto del mondo e Nice è uno di noi che comunque non ci ha avuto una vita facile quindi mi piace tanto nominarlo così ce l'ho sul comodino a me mi porta fortuna e devo dire che è stato molto secondo me una persona non deve darsi limiti o meglio se si tratta di opere artistiche di creatività di sfoghi una persona non deve mai mettersi nella condizione di essere inibito tutto si può fare secondo me e lo dico proprio da una reduce appunto della questione del osare perché magari a volte osare ti salva la vita Zani te lo giuro e quindi lo dico anche con grande entusiasmo adesso mi paro benigni magari però intendo capito cioè questo ottimismo che mi pervade perché dopo tanto lavoro dopo tanto studio secondo me si possono fare le cose si possono fare fatte bene anche quando si è indipendente si fanno se mi permetti il termine le proprie marmellate musicali ma assolutamente ma poi lo vediamo in ogni ambito in ogni settore comunque di quella che è anche la comunicazione legata ai tuoi progetti perché ti sei divertita anche questa volta incuriosendo ma partendo davvero da molto lontano e mi viene in mente anche quello che avevi già fatto precedentemente per esempio con il Stato di Saponette sì ma sai perché? Perché io ho sofferto tantissimo questa cosa Zani io praticamente andavo in giro, facevo il giro delle sette chiese come si dice a Roma cioè dei discografici e mi dicevano sei troppo pop per essere indie poi beccavo altri facevano, andavo da quelli indie cioè sei troppo indie per essere pop da quelli pop invece cioè quindi dicevo ma io cioè che devo fare perché tutte queste etichette però lo capisco perché a livello di mercato è importante quando fai delle cose sopra le righe e le fai in una maniera originale all'inizio fanno fatica a maneggiarti le persone allora senza aspettare discografico sul cavallo bianco, discografico azzurro mi sono fatta con i miei soci una società che è la Freaking Chic perché abbiamo detto pensiamoci noi al nostro futuro perché se stiamo aspettando l'Arfi buonanotte allora sono uscite le canzoni ma le mie canzoni proprio perché sono sempre stata particolare strana e proprio perché toccano degli argomenti un pochino delicati e a volte anche frizzantini mi piaceva l'idea di lanciarle in una maniera come dire sopra le righe ma perché è il bello anche della comunicazione allora io adoro fare questi esperimenti sociali perché in un'altra vita devo essere stata una sociologa di quelle pese e quindi mi piace vedere la pancia della gente come reagisce cioè la massa come reagisce a delle cose il cartello cadono saponette fuori da che ne so l'agenzia delle entrate l'avevo fatto, era diventato virale la sposa abbandonata per le cinque fasi del dolore e ho mandato in giro questa mia amica attrice bravissima che piangeva disperata e tutti a fotografarla invece di avvicinarsi la fotografavano e mi faceva strano il fatto che di fronte al dolore rimaniamo un po' impiedriti non so come di e poi abbiamo fatto ringrazio che sono una signora ho fatto un cartellone di shame on you verso un ipotetico traditore cattivo e adesso invece qua volevo rappresentare appunto l'emblema dell'ultimo singolo che è Maria Casolina Maria Casolina è una ragazza che sta con un uomo molto più vecchio di lei e dal conto in banca completamente diverso quindi uno molto ricco e volevo affrontare questo argomento perché ho scoperto che ci stanno degli argomenti zani che nella vita faranno sempre scalpore non so come dire cioè quando vediamo per strada una giovane donna o un giovane uomo con una persona molto più grande e facoltosa il primo pensiero che facciamo perché l'uomo è un animale sociale quindi i pregiudizi ce l'ha e dire ah ci sarà un secondo fine capito e quindi ho fatto sto cartellone in metro d'uomo perché la signora Marcella quella che vende ormai mi ha adottato ha capito che sono amatta ha detto guarda figlia mia ha capito che sono indipendente e lei che ha affitta delle vetrine insomma in zona metro d'uomo a Milano mi ha dato questa occasione e ho attaccato questo cartellone che era una dichiarazione d'amore di il signor Gastone verso la sua Maria Maria se torni da me ti intesto tutto quando fai questi esperimenti però e non metti il prodotto cioè la canzone rischi o la gloria o l'avviso a sto giro è stato gloria e meno male Zani perché fino a allora perché io poi ho grande coraggio nella creatività poi quando si avvicina al momento che si esce io proprio ho le colichette cioè proprio Zani guarda ti giuro mi sono molto emotiva a livello d'ansia Margherita Bui e quindi nei film e quindi vabbè ero tutta contenta e poi insomma la cosa bella è stato che è uscito Maria Castellina siamo finiti in New Music Friday di Spotify insomma è partito col botto adesso sta andando bene la canzone sono molto fiera e infatti grazie per questa intervista è sempre un piacere parlare con te anche perché comunque tutte le tue canzoni non sono scontate ma lo vediamo anche per esempio adesso che magari muori è la sigla è diventata la sigla di un programma televisivo addirittura e fa strano a volte sentire la tua voce anche in quel contesto sì ma infatti non avrei mai detto nella mia vita di stare in una sigla con le mie canzoni ti rendi conto Zani che una delle canzoni che è più andata della mia vita si chiama Magari muori ma posso essere normale? no è normale che qualsiasi cosa che farò starò un pochino sopra le righe capito? comunque in quella canzone c'è una frase che avremo poi tatuerò che riporta al cielo il tuo corpo esurato per dare la prova che ho proprio apprezzato quindi devo dire che in quel caso esatto ma sì perché poi noi a volte ci scordiamo che la vita è un mozzico cioè noi dobbiamo fare e vivere secondo come è giusto per noi non per gli altri ecco perché io dico so strana magari tanti mi vedono strana magari sarà difficile il mio percorso eccetera però è bellissimo fare una cosa che te calza a pennello a te capito? e tu lo sai molto bene Zani perché quanti anni è che lavori nel settore della comunicazione musicale tra la radio il giornalismo mi hai fatto mi sei diventato virale su ti ricordi all'Eurovision è stato bellissimo che ti sei proprio commossa sei stato cioè quando ami una cosa bisogna insistere come dei pazzi e questo vale mica solo per i cantanti penso che valga pure per gente come te ma io vedo anche che ne so nel settore musicale che tutti dicono in crisi in crisi c'è stato un sacco di gente che ci mette veramente il cuore da morire tipo la ragazza che mi sta permettendo di spargere la voce cioè Silvia Ecker quella là in odore di santità cioè praticamente il fatto che ci sia qualcuno che ti aiuti come te per esempio stai facendo con me a spargere la voce ma mica è scontato perché noi siamo bombardati di offerte musicali se ci pensi è cambiato tutto il modo di fare musica ma proprio perché è cambiato tutto è bene ogni tanto buttarle in cacciare e riscrivere le regole sbaglio sono sicuramente d'accordo e in tutto questo mi sorprende anche la tua collaborazione con Roberto con Roberto Casarino che è sempre stato come dire a parte che è una persona eccezionale iper simpatica però è sempre stato visto come un personaggio molto più cosato con te si sta lasciando andare oddio che ride allora quando io l'ho conosciuto balbettavo perché ho detto io poi sindrome dell'impostore dicevo ma questo qua secondo me non ha capito bene invece ma proprio lui ha detto tu quell'anno lì è stato il mio disco preferito ho detto ma davvero quindi è nata questa amicizia la prima canzone noi ne abbiamo scritte tante poi te le manderò a Zani e tanto a breve uscirà anche il disco noi abbiamo scritto le canzoni insieme e la prima è stata proprio Maria Casolina e a me scioccava il fatto che lui cioè è sua casalinità lo chiamo cioè è uno che ha riscritto la musica italiana nel senso è uno degli autori dei punta italiani pazzeschi poi il cantautore c'ha una voce della Madonna a volte mi rimanda i provini con la sua voce io proprio impazzisco e cioè in sostanza mi è piaciuto tantissimo come riesca entrare nella tua vita con un rispetto incredibile e dire ok facciamolo ha sposato la causa io lo amo io ho fatto delle dichiarazioni d'amore proprio sfacciate e mi sento fortunata perché quando secondo me una persona di quella caratura sposa la causa di una persona indipendente tu sai benissimo che la musica indipendente deve lavorare al doppio può ottenere la metà di quello che vediamo in giro eh sì veramente un grande ed è bello appunto poter condividere appunto questa questa passione Romina io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica e speriamo di vederci presto anche dal vivo Zani grazie perché sei sempre incredibile sei sempre tutto studi come un pazzo ti ringrazio tanto guarda un saluto a tutti quelli che ci stanno che ci stanno guardando e spero a prestissimo e ti prego vieni al mio concerto il 5 gennaio che sto preparando non è un concerto quello è un sequestro di persona eh tanti parlati tante canzoni però è bellissimo cioè non mi pare vero perché quella è la mia dimensione guarda ci saremo grazie mille grazie a tutti